Che il sistema non funzioni è sotto gli occhi di tutti, ma pochi hanno qualche buona idea per cambiare rotta. Da Londra, una delle capitali finanziarie del globo, ci prova l'Institute for Public Policy Research, un pensatoio di orientamento progressista che ha appena presentato un piano in 73 punti. Forse troppi, ma alcune indicazioni sono concrete e sensate. Coinvolgere i lavoratori nei consigli di amministrazione, aumentare i salari minimi, alzare le tasse su eredità e dividendi azionari, maggiori investimenti pubblici, più decentramento. Tutto il contrario di quello che è stato fatto in questi anni. L'attuale modello di capitalismo non funziona, non ha dato risposte alla crisi finanziaria globale del 2008, sostiene il dossier, al quale hanno lavorato diversi specialisti, tra cui il primate della Chiesa d'Inghilterra, Justin Welby, uno che se ne intende. In gioventù ha fatto il manager di un'azienda petrolifera e se c'è qualcosa che caratterizza il suo ministero ecclesiastico è la lotta contro la povertà. Realizzare insieme prosperità e giustizia è un imperativo, non solo morale, ma economico, dice Welby, quasi a ricordare che il suo non è un sermone astratto, ma un'analisi della realtà. Eccolo, salterà su qualcuno. Un altro prete, come il suo amico vescovo di Roma, che si impiccia di cose non sue, invece di celebrare funzioni e distribuire benedizioni. Come se la giustizia, perché di questo parliamo, non centrasse nulla col Vangelo. Ma in un articolo per il Daily Mail, tabloid molto venduto e molto conservatore, Welby scrive Il 10% più ricco della nazione ha un patrimonio 900 volte più grande del 10% più povero. I giovani sono più poveri dei loro genitori, faticando a trovare lavoro e comprare casa. La maggior parte dei poveri sono famiglie di lavoratori. Non possiamo continuare così. Come cristiano, aggiunge il primate anglicano, parto dall'insegnamento di Gesù. Gli uomini sono tutti uguali e la giustizia ha un'importanza fondamentale nella società. È un tema ricorrente nella Bibbia.